Benvenuti cari spettatori, sia quelli affezionati che i nuovi arrivati, sul nostro canale. Ritorneremo a discutere dei sondaggi e questa volta le dinamiche stanno subendo cambiamenti significativi. È fondamentale prestare attenzione poiché, come ben sappiamo, mentre alcuni guadagnano consenso, altri li perdono. Aiutateci a far crescere il canale lasciando un mi piace al video e iscrivendovi ora, vi ringraziamo. Partiamo immediatamente con i risultati del primo sondaggio. Beatrice mantiene saldamente la sua posizione in testa con il 49,29% dei voti, seguita da Gresia al 28,13% e Sergio al 22,58%. Questa classifica non ha subito variazioni significative e Beatrice continua a dominare la scena. Passando al secondo sondaggio, emergono alcune difficoltà, soprattutto per due concorrenti, Sergio e Gresia. Sergio è un nuovo arrivato e potrebbe trovarsi in difficoltà, mentre Gresia ha perso un po' di terreno ultimamente. Nonostante sia stata lungo la seconda preferita durante la nomination con Beatrice, ha ceduto il suo posto a Sergio, che ha ottenuto il 28% dei voti, mentre Gresia si è fermata al 27%. Questa situazione crea un equilibrio quasi perfetto tra Sergio e Gresia, mettendoli in una posizione delicata per la possibile eliminazione. È importante sottolineare che la situazione non è definitiva, poiché entrambi dovranno ancora affrontare la sfida con Stefano, già nominato d'ufficio per la prossima puntata, e con altri concorrenti che verranno nominati in seguito. Ora vi chiediamo, amici del vero gossip, chi tra Sergio e Gresia vorreste salvare? Se l'articolo ti è piaciuto, ti invitiamo a mettere un pollice in su e a continuare a seguirci su Notizie Vere Gossip per tutte le ultime novità e aggiornamenti. Grazie.